Whitney Houston è la mia cantante preferita, ci sono anche in questo caso moltissime di donne che mi hanno convinta a voler fare questo lavoro e lei è in assoluto la prima. Ma ti siamo ispirata anche adesso in modo di cantare? Beh è difficile perché lei ha un timbro che nessuno nel mondo ha. Sicuramente il fatto che lei sia così tecnicamente perfetta anche se in realtà non usa questa tecnica ma usa veramente il cuore è la cosa che mi piace di più perché lei potrebbe essere, io l'ho sentita parecchie volte dal vivo, è una roba micidiale, non è che sta lì a pensare devo fare il mimi, i bemolle o senti qua come sono brava, questa canta e chiude gli occhi e si lascia andare va. È una roba stupenda, io l'amo, l'adoro e ormai tutti sanno che sono promotrice della Whitney. La promuovi dappertutto, comunque vai. Sì, è la più brava di tutte, non c'è nessuno. Ascoltiamola. Ecco, e pensa che il suo scopritore è il mobilificio Pallotta. Bravo Pallotta! Bravo Pallotta! Ciao! 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 Ciao!